Ieri 6 settembre si è discusso in conferenza delle regioni la bozza di disegno di legge dell'Aggiunta regionale della Campania per l'abolizione del numero chiuso alla Facoltà di Medicina. Proprio in questi giorni sono uscite le graduatorie degli ammessi ai corsi di medicina, ma una novità arriva dalla regione. La proposta che è stata inserita all'ordine del giorno della conferenza passerà all'approvazione del Consiglio regionale. Ad insistere Vincenzo De Luca, il provvedimento prevede l'accesso libero a medicina, anche veterinaria e alle professioni sanitarie a partire dall'anno accademico 2024-2025. Una battaglia antica del governatore inaugurata lo scorso febbraio che a livello nazionale sposa quella leghista. Smettiamolo con questa iduzia del numero chiuso a medicina, afferma De Luca, quando poi decine e decine di ragazzi formati qui sono costretti ad andare via per studiare in Romania, in Bulgaria, in Spagna e in Albania. È un disastro per le famiglie per il sud che si spopola. Si finanzino le cose serie e ci servono medici, ma il governo della nazione finora non fa nulla. Tra sei mesi in campagna siamo costretti a chiudere il pronto soccorso in campagna perché non abbiamo personale per garantire i ritorni di lavoro, conclude De Luca. Inoltre, proprio in merito all'argomento, è saltato fuori uno scandalo riguardo ai test di medicina venduti a 20 euro, sia che ha pagato migliaia di euro per iscriversi ai corsi di preparazione che avrebbero permesso di conoscere in anticipo le domande del test di medicina, ma ad altri è bastato decisamente meno. Il gruppo giusto su Telegram è 20 euro. Ciò ha dato una spinta maggiore al governatore campano ad insistere sull'argomento e abolire il test di medicina numero chiuso.